Però è bello, io ho passato tutto il pomeriggio qui a fare editing, aiutare mio figlio a studiare Arrivo qua sul TS per salutare qualcuno e vedo che c'è Agostino, tutti quanti L'unica cosa che vengo a sapere è che Agostino si è influenzato, non ha cagato per 15 giorni Oggi ci ha lasciato una bella scagazzata, dico praticamente io entro sul TS per sentire una serata di merda Che bello! Perchè entro io e sento merda da parte di Elvino? E' Agostino che è stato malato, ha avuto 15 giorni in cui non riusciva a fare i bisogni Buonasera 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 Mi stai perdendo una cosa Buonasera Che scatarra No è il cane di pezza E' il cane psicopatico Pensavo che era uno che scatarrava Di male in peggio finiamo qua Daniele saluta mia moglie e se no va a finire male qua Ciao Daniele Ciao Maria Ecco Io ricordo ancora a tutti che Daniele oggi è stasera in fase scorreggio Lo sapevo già, grazie Finestra di fagioli con ceci e l'aggiunta di salsiccia Prevedo una serata di merda ragazzi Buonasera merdoni E' il vero senso della parola Buonasera merdoni E' il vero senso della parola Buonasera merdoni e la mattina coglioni Ciao Robo Dove lo vedi Robo? E' in stanza C'è Robo E' in stanza Oh cazzo no Io sono su balcone Io pensavo fossero i pieti di Daniele No i pieti di Daniele sono botta secca Però questi non appaiono purtroppo E ti rimangono male Vabbè Ora non essere esagerato Non sono così rumorosi Dai No per l'amore del cielo Tranquillo No Agostino fai ancora qualcosa su YouTube? Ma è sempre la solita cosa Ah Ho la voglia di vivere L'allegria Guarda No no è perché Dalla non mi voglio sbilanciare Ok Ho sentito L'ho sentito adesso E mi è appena venuta voglia di buttarmi in attraverso Quindi Robo Grazie Siete degli amici veri I miei mi farebbero morire Ma che cazzo Robo sembra che a me è una spinta ogni tanto Ecco Parte No c'è differenza tra la spinta e la botta C'è differenza tra botta e spinta Sì Ho visto passare di qua Salute Lui ci ha lasciato le caccole sul microfono No caffè addosso È diverso Dai Dani non è possibile che tutte le volte che star notici Bevi il caffè e ti rovescio addosso Guarda sono più le volte che rovesce il caffè che le volte che star notici secondo me Oppure mi chiedo quanti caffè beve per buttarli a terra e star notici a mio Perché ogni volta che star notici c'è un caffè in mano A sto punto bevelo direttamente col naso il caffè Ma no il problema è che mi esce dal naso tipo caffettiera Riciclo continuo Io ho una soluzione Che ti cambierà nettamente la vita La cannuccia Prendi il bicchiere e ci metti la cannuccia dentro Esatto Così se star notici sei già lontani Non mi dare questi suggerimenti No non mi posso cannuccare ora dai No però con il culo che c'hai è che prendete ti viene lo starnuto Starnutisci con la bocca dentro la cannuccia e ti vuole tutto il caffè Beh se per questo starnutito anche oggi nella pasta è ceci E' volato tutto fuori sulla tovaglia Che schifo Non vale che non ci hai scorreggiato Guarda io non dico ci credo o non ci credo Perché è inutile quando ti dici qualcosa Non si sa E' difficile pensare che sia una balla Perché ti ho visto fare la carbonara a luna di notte Quindi E' un po' come l'area 51 Non si sa cos'è se esiste Io la prendo con filosofia La prendo così come viene dico Pirra che sei cazzo che ogni volta che mi stanno dire C'è in mano un te o un caffè E cazzo A 40 anni non riuscire a bere un caffè perché stanno tisi E' un po' come ioshi Si sente su ti e si ma non si sa se esiste veramente Non ci conferma No ioshi si sa che non esiste non è un dubbio E' una volta che non esiste basta 5 4 3 2 1 Aro di oceano Ok Non l'ho capita ma fa niente Aro di oceano Il Aro di oceano Grazie.